È una bella dimostrazione di come tutte le articolazioni del Comando Provinciale lavorino all'unisono su quello che è un tema nevralgico importante sul quale investiamo tanto costantemente ogni giorno. La violenza sulle donne e qualsiasi altra forma di violenza di genere è un qualcosa che da parte nostra merita la massima attenzione soprattutto come in questo caso anche degli importanti risultati di natura di contrasto. Quello che è accaduto nella giornata di ieri quando poi è stata data esecuzione pratica ad una misura cautelare che ha collocato un 56enne di origine albanese residente a Cattolica in custodia cautelare in carcere a Rimini e ciò è avvenuto in virtù della ricostruzione di due gravissimi episodi che si sono prodotti sia nel mese di marzo nel territorio di Sant'Arcangelo di Romagna vicenda per la quale procedono i colleghi della Compagnia di Rimini e recentemente a maggio nel territorio di Cattolica vicenda per la quale procedono i colleghi della tenenza. In buona sostanza questo 56enne un insospettabile conduttore di automezzi pubblici nella zona del riminese in un caso si era reso responsabile di alcune molestie in danno di una passeggera all'epoca dei fatti addirittura minorenne facendole dei presanti apprezzamenti di natura sessuale e addirittura passandole via di fatto palpeggiandola e in un secondo caso nell'episodio di Cattolica addirittura non aveva esitato nel tragitto diciamo così che vedeva il fatto di riaccompagnare a casa l'amica della figlia in questo caso appena 18enne di avergli fatto appunto delle avanze di natura anche in questo caso sessuale quindi gravi comportamenti che sono stati poi stigmatizzati nel provvedimento cautelare emesso dal GIP presso il Tribunale di Rimini che ha poi portato alla pratica esecuzione da parte del Comando Provinciale nella giornata di ieri come vi ho appena accennato.